Aspetta un attimo, Presidente del Consorzio, lei rappresenta probabilmente il cuore di questa battaglia lanciata da Condiretti e un vero e proprio attacco all'incendenza del territorio. Ma senza dubbio è un attacco all'innovazione, però è una cosa che sicuramente sorprenderemo, perché c'è la coesione dalla parte del nostro Consorzio, tutti gli associati ad andare avanti, a far crescere il nostro prodotto e il modo più sereno, più distinto di far conoscere la bontà del nostro prodotto e la nostra forza, è il territorio e il prodotto. Queste due cose, scrivendolo a delle personaggi veramente che ci credono in questo programma, in questo prodotto. è stata la nostra ricchezza per tanti anni e spero che non sia, continua ad essere. Il Pomodoro San Marzano è una ricchezza unica, bisogna solo conoscere, quindi tutto sta meglio in formazione. Cosa si fa per il Consorzio e la restituzione? Non è che vogliamo applicare il nostro prodotto, il nostro operato all'estituzione, siamo noi in primizio a fare dei programmi e ad andare avanti. Vogliamo solo che le istituzioni ci siano vicini nei dati. Grazie.